E nelle immagini la bandiera a scacchi che preannuncia la partenza del G1 Date in questo istante Subito tutto a questi piccoli atleti che dovranno compiere tre giri del percorso Primo passaggio è subito la Ronca in evidenza con Codenotti e i campioni provinciali Serlini e Gozio Dietro di loro vediamo la Camignone, il team Valle Sabbia, la Capriano e via via tutto il resto del gruppo Sono ancora tre atleti della Ronco al comando della gara Sembra proprio che vogliano occupare tutti i gradini del podio Dietro di loro la Camignone cerca di rovinare la festa Più indietro ancora Hotelli, Capriano e un'altra volta la Ronco Ma siamo all'arrivo dove troviamo una coppia della Ronco davanti a tutti Formata da Codenotti Samuele e Serlini Angelo Terzo, Plebani Giacomo della Camignone che precede Gozio Alessia e Beni Giovanni ancora della Ronco Grazie a tutti